Ciao, sono Luca di Mr. Gadget. Oggi presento un prodotto molto carino, appena lanciato questo di OnePlus, si chiama OnePlus 8T. Ci sono quattro capisaldi intorno a cui è costruito questo smartphone. Con un display con una diagonale da 6,55 pollici, ma soprattutto con refresh rate da 120 Hz. Sulla parte posteriore quattro sensori fotografici in cui gli algoritmi che lavorano sulle immagini sono stati migliorati, diciamo, ulteriormente. E poi la ricarica, vi faccio vedere il caricatore USB Type-C, il connettore di ricarica USB Type-C, che permette di collegare il caricatore da 65 Watt. Pensate, può essere utilizzato anche per i computer ed è uno dei più veloci in assoluto al mondo. E poi la performance, perché qui si arriva fino a 12 GB di RAM, fino a 256 GB di memoria interna. Ma andiamo a vedere i dettagli uno dopo l'altro. Il display, come detto, da 6,55 pollici è uno dei dettagli più curati. Potete calibrare addirittura lo schermo, vedete, con il tipo di colore che preferite, scegliere quale frequenza di aggiornamento utilizzare. Quando scegliete 120, comunque viene utilizzato in modo dinamico e in modo intelligente, quindi con le applicazioni a cui non viene richiesto uno sforzo grafico particolare, insomma, viene lasciato una frequenza di refresh più bassa. E poi, vedete, insomma, potete gestire il vostro display alla grande con la presenza anche dello schermo ambient, o se volete, always on display, che finalmente arriva anche su OnePlus. Qui vedete solo la gestione del tempo, perché per i contenuti invece dell'always on display dovete entrare nel menu di personalizzazione. Avete tantissime possibilità di personalizzazione che passano anche, ad esempio, da quella di usare una vostra Bitmoji, per cui c'è un accordo tra OnePlus e Bitmoji per avere un always on display con la vostra immagine grafica, ma anche con il canvas, quindi con una soluzione che viene creata utilizzando come base una vostra fotografia. La batteria è un altro elemento importante, perché è vero, avete la capacità di 4500 mAh, ma avete soprattutto la capacità di ricaricare con un sistema da 65 W, che pensate, ha 12 controlli termici dentro il caricatore, una ricarica che viene chiamata Twin Charge, perché è come se arrivassero due flussi energetici su due pezzi della batteria, che quindi si ricarica velocemente da 0 a 100 in 39 minuti. Caratteristiche del telefono sono molto interessanti, grazie al processore Snapdragon 865, fino a 12 GB di RAM, fino a 256 GB di memoria interna, con lo standard 3.1 che legge la lettura, che rende la lettura dei contenuti e anche la scrittura molto più veloce. Ovviamente la fluidità di questo smartphone è incredibile e peraltro è dotato di rete 5G, quindi con la possibilità di sfruttare anche le nuove reti veloci. Fotocamera, sensore principale da 48 megapixel con stabilizzazione sia ottica che elettronica, e poi c'è un sensore grandangolare con un'apertura di 123 gradi, un sensore macro e anche un sensore monochrome, che non serve per fare le foto in bianco e nero, ma per catturare immagini e dettagli, informazioni in bianco e nero, che poi vengono utilizzate per rielaborare le immagini, devo dire con risultati più che buoni. Quindi 48, 16, 5 e 2 megapixel rispettivamente per i quattro sensori posteriori. Sul fronte invece col bughetto c'è un sensore da 16 megapixel. È interessante vedere anche le impostazioni della fotocamera per un dettaglio in particolare, cioè la scena notturna, quella che permette adesso di scattare le foto anche con il grandangolo. E poi vado con i video per due ragioni, perché c'è la super stabilizzazione che potete utilizzare per avere immagini veramente fermissime, e poi anche il videoritratto. Vediamo come funziona. Ecco la modalità videoritratto che permette di centrare il proprio soggetto, e una volta che avete stabilito dov'è il soggetto, tutto quello che sta intorno viene sfocato per aumentare ulteriormente la sensazione di profondità che vi viene data con questo tipo di ripresa. Funziona molto bene, facile tra l'altro da attivare con OnePlus 8T. Potete fare i timelapse con tutti i sensori oggi disponibili, avete la disponibilità dello slow motion, la modalità ritratto, e poi anche la gestione pro per avere tutti i parametri sotto controllo. Video con 4K 60 frame al secondo, e devo dire che il risultato è veramente eccellente. L'altra novità importante è che questo telefono si basa su Android 11, quindi Oxygen OS 11, che vedete ha una grafica leggermente diversa, peraltro utilizzata in modo tale, cioè creata in modo tale, che l'utilizzo con una mano sia sempre utile. Vedete dove arriva questo prodotto, e che si può raggiungere anche solo con una mano. La cura nella costruzione dell'interfaccia è stato uno dei dettagli importanti. Vi faccio vedere una curiosità tra le tante che ci sono, quella cioè dello Zen Mode, perché adesso questa modalità che vi permette di smettere di utilizzare il telefono può essere anche fatta con amici. Potete infatti invitare, vedete, altre persone a partecipare al vostro momento di relax creando una stanza che nessuno provi mai a staccarmi dallo smartphone. Alla fine di tutto questo tempo che abbiamo dedicato a OnePlus 8T, quello che possiamo dire è che questo diventa uno dei best buy in assoluto della stagione. La versione base 599 euro, quella più carrozzata, diciamo 699 euro, e questo da solo con il processore 865 di Qualcomm, con il 5G, con tutte le dotazioni tecniche di questo smartphone, ne fanno sicuramente un best buy. Certo, la fotocamera non è la migliore in assoluto, perché rimane identica a OnePlus 8, però insomma per un prezzo così qualche compromesso lo si deve pur accettare. La domanda però è sempre quella, a voi piace? Grazie a tutti i sc ci servizi come home. Grazie a tutti e vicini. Grazie a tutti i설i, a voi citiamo un